La nuova ordinanza emanata dalla Regione Campania il 2 giugno alle ore 23 riguarda anche gli accessi alle isole della Regione. Per quanto riguarda appunto gli ingressi alle isole del Golfo di Napoli, Ischia, Capri e Procida per coloro che arrivano da altre regioni italiane e dall'estero obbligo per i viaggiatori che usufruiscono di servizi di linea di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli, Porto, Di Massa e Pozzuoli obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari obbligo di presentarsi all'imbarco almeno un'ora prima della partenza per consentire i controlli obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e se superiore a 37,5 al test rapido Covid-19 di vieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19 con disposizione della sorveglianza fiduciaria in attesa dell'essito del tampone molecolare nasofaringeo. Per coloro che arrivano da altre regioni c'è obbligo imbarcarsi unicamente con traghetti e agli scafi di linea dalle stazioni di Napoli-Porto di Massa, Napoli-Beverello, Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Sorrento.